Vediamo la teoria essenziale per questa lezione. Il limite di una funzione razionale fratta, cioè una funzione data dal rapporto tra due polinomi, si presenta nella forma indeterminata infinito su infinito quando x tende a infinito. I polinomi di grado maggiore o uguale a 1 sono degli infiniti per x che tende ad infinito, cioè sono delle funzioni che tendono a infinito quando x tende ad infinito. Chiaramente i discorsi che faremo valgono sia quando x tende a più infinito che quando x tende a meno infinito. La strategia principale per risolvere l'indeterminazione è quella di raccogliere a fattor comune la potenza di grado massimo sia a numeratore che a denominatore. Questo ci permetterà di fare delle semplificazioni e giungere al risultato. Questo procedimento ci permetterà di trarre una conclusione molto importante, grazie alla quale saremo in grado di ricavare una regola pratica. Servendoci di questa regola risolveremo questo tipo di limiti molto velocemente. Ma bando alle chiacchiere e vediamo gli esercizi pratici. Vediamo il primo esercizio. Questo limite dà luogo alla forma indeterminata infinito su infinito. Per risolvere l'indeterminazione, come abbiamo detto all'inizio, dobbiamo raccogliere a fattor comune a numeratore e denominatore la potenza di grado massimo. In questo caso raccoglieremo x alla terza a numeratore e x alla seconda a denominatore. A numeratore raccogliendo avremo 1, meno 3 su x, più 4 fratto x alla terza. A denominatore invece avremo 1, più 1 fratto x, meno 3 fratto x alla seconda. Ricordiamo che facciamo questi raccoglimenti per poi fare delle semplificazioni. Possiamo semplificare i termini che abbiamo raccolto, entrambi potenze della x. Quello che rimane è questo. Sia a numeratore che a denominatore abbiamo dei termini che sono formati dal rapporto di una costante e di una potenza di x. Ricordando l'algebra di infinito, a prescindere che l'esponente sia pari o dispari, questi rapporti tenderanno a 0 al tendere di x all'infinito, sia più che meno, non importa il segno. Quindi sappiamo che questi termini saranno uguali a 0. La x rimasta fuori dalla parentesi invece tenderà a più infinito. Abbiamo risolto l'indeterminazione perché, sostituendo i valori numerici e svolgendo dei semplici calcoli, otteniamo come risultato più infinito, risultato finale di questo limite. Vediamo il secondo esempio. Anche in questo caso il limite di questo rapporto di polinomi dà luogo alla forma indeterminata infinito su infinito. Per risolvere l'indeterminazione, sfruttiamo la strategia che abbiamo imparato a conoscere nel primo esercizio. Raccogliamo le potenze della x di grado massimo a numeratore e denominatore. In entrambi i casi raccoglieremo x alla seconda. A numeratore avremo 1 meno 2 fratto x più 1 fratto x alla seconda. A denominatore invece avremo 3 più e alla seconda fratto x alla seconda. Non facciamoci ingannare da quella e, non è la funzione esponenziale ma un normale numero. Ora facciamo le semplificazioni, eliminando i termini x alla seconda da numeratore e denominatore. Ci rimane questo limite e possiamo seguire lo stesso ragionamento dell'esercizio precedente. I termini che hanno la x al denominatore tenderanno a 0 al tendere di x all'infinito. Notiamo che in questo caso x tende a meno infinito, mentre prima x tendeva a più infinito. Come abbiamo già sottolineato, quando x tende a infinito, a prescindere dal segno, il rapporto tra una costante e una potenza di x tende a 0. Questo semplifica il calcolo del limite il cui risultato è finito ed è uguale a un terzo. Vediamo il terzo esercizio. Come abbiamo imparato, questo tipo di limiti di funzioni razionali fratte dà luogo alla forma indeterminata infinito su infinito. Prima di applicare la solita strategia, ci conviene svolgere le moltiplicazioni per togliere le parentesi, in modo da avere ben chiaro qual è il grado massimo del polinomio a denominatore. Ora possiamo raccogliere x alla sesta a numeratore e x alla settima a denominatore. A numeratore avremo 4 meno 3 su x alla quarta più 4 su x elevato a 6. A denominatore invece avremo 1 più 1 fratto x elevato a 5. Semplifichiamo le potenze della x per ricavare una forma del limite più semplice. Come abbiamo ripetuto più volte, i termini dati dal rapporto tra una costante e una potenza di x tendono a 0. La x di fronte alla parentesi tende invece a meno infinito. Adesso è solo questione di scrivere i valori numerici e svolgere dei semplici calcoli. In pochi passaggi giungiamo ad avere il rapporto tra 4 e meno infinito, e il risultato è 0, visto che è un caso simile a quelli che avevamo a numeratore e denominatore qualche passaggio fa. Questo è il risultato finale. Abbiamo risolto tre limiti che davano luogo a una forma indeterminata. Il procedimento, per quanto sia piuttosto lineare, è comunque molto laborioso, e, lo sappiamo, più calcoli si fanno più c'è il rischio di fare degli errori. La domanda nasce spontanea. C'è un modo più semplice e veloce per risolvere questo tipo di esercizi? La risposta è sì. Gli esercizi che abbiamo svolto non sono stati casuali. Infatti, ci hanno fatto conoscere i tre casi che possiamo incontrare nella pratica. Dato il limite di una funzione razionale fratta che si presenta nella forma indeterminata infinito su infinito, l'unica cosa che ci interesserà saranno i gradi dei polinomi a numeratore e denominatore. I tre casi che ci si possono presentare dipendono dai gradi di numeratore e denominatore. Infatti, può succedere che il grado del numeratore, che abbiamo indicato con un polinomio generico n di x, sia più grande del grado del denominatore, indicato con d di x. In questo caso, il risultato del limite è infinito, a cui poi daremo il segno che dipenderà dalla funzione in gioco. Nel caso i gradi di numeratore e denominatore siano uguali, il risultato del limite è un numero L, che sarà dato dal rapporto tra i coefficienti dei termini di grado massimo di numeratore e denominatore. Nel terzo e ultimo caso, quello in cui il numeratore è a grado inferiore al denominatore, il risultato del limite sarà zero. Quindi, ci è sufficiente guardare numeratore e denominatore per sapere quale sarà il risultato. Il caso più delicato è il primo, nel quale oltre a dare il valore del limite, dovremo assegnare anche un segno. Prima di tornare a fare pratica, voglio parlare di quello che è il principio di sostituzione degli infiniti. Questo è un teorema che, quando stiamo calcolando un limite, ci permette di sostituire a una funzione la sua parte principale. La parte principale, in parole povere, è una funzione sostitutiva che si comporta allo stesso modo della funzione principale al tendere della x ad un determinato valore. Come possiamo applicare il principio di sostituzione degli infiniti ai limiti che stiamo studiando? In una maniera molto semplice. Prenderemo di numeratore e denominatore soltanto i termini di grado massimo. Poi calcoleremo il limite, che sarà molto più semplice. Prendiamo solo i termini di grado massimo perché, quando x tende ad infinito, la parte principale di un polinomio è la potenza più alta, che va all'infinito più velocemente di tutte le altre. Il mio suggerimento è quello di applicare il principio di sostituzione degli infiniti quando il grado del numeratore è maggiore di quello del denominatore e abbiamo bisogno di dare un segno a infinito. Negli altri due casi è più comodo e veloce applicare la regola principale. Vediamo tutto nella pratica. Vediamo un gruppo di esercizi con limiti che danno tutti luogo alla forma indeterminata infinito su infinito. Per risolverli, applicheremo i concetti di cui abbiamo appena parlato. Vediamo il primo esempio. I gradi dei polinomi a numeratore e denominatore sono uguali e allora il risultato sarà dato dal rapporto dei coefficienti dei termini di grado massimo, che sono 5 e meno 3. Il risultato del limite è allora meno 5 terzi. Nel secondo esempio, il numeratore è a grado maggiore del denominatore e allora, anche se sappiamo che il risultato sarà infinito, ci conviene applicare il principio di sostituzione degli infiniti per trovare il segno. Riscriviamo il limite mantenendo soltanto i termini di grado massimo a numeratore e denominatore. Semplifichiamo per ricavare una forma del limite più semplice. Sostituendo, otteniamo subito il risultato, più infinito. Nel terzo esempio, la regola ci dà subito il risultato. Il numeratore è a grado inferiore e allora il limite sarà 0. Nel quarto esempio, il numeratore è a grado maggiore e quindi sappiamo che il limite sarà infinito. Per trovare anche il segno, riscriviamo tutto sostituendo a numeratore e denominatore le loro parti principali. Al numeratore la parte principale è x alla quarta perché è la potenza che corre più velocemente all'infinito. A denominatore l'unica potenza è x ma dobbiamo fare attenzione e prendere anche il segno meno. Semplifichiamo per ottenere una forma del limite più semplice. Ora sostituiamo più infinito e poi svolgiamo i calcoli. Il rapporto fra più infinito e meno 1 ha come risultato meno infinito. Grazie per aver visto questo video. Se ti è stato utile, clicca mi piace, iscriviti e commenta se hai un dubbio riguardo a questa lezione. Ci vediamo alla prossima e buono studio!